Ciao e benvenuti in questo nuovo video di Intanto, in Thailandia, il Dipartimento della Salute Mentale ha chiesto ai media di astenersi nella descrizione dettagliata nelle notizie dei suicidi, onde evitare casi di emulazione. Il dottor Chiatipun Vrongajit, direttore del Dipartimento, ha affermato che i casi di suicidio sono aumentati di nuovo, aggiungendo anche che le persone vulnerabili hanno più probabilità di togliersi la vita quando vengono a conoscenza dei dettagli di qualche altro suicida. I dati del Dipartimento della Salute Mentale mostrano che nel 2018 ci sono stati più di 4137 casi di suicidio, pari a 345 al mese o a 11.5 al giorno, di cui il 74.7% dei casi di suicidio sono stati effettuati da persone di età compresa fra i 25 e i 59 anni, il 22.1% da persone anziane e il 3.2% da giovani adulti. Bene, questa notizia finisce qua, ci vediamo al prossimo video.